Colpo all'oro catena di Bassano, bloccate le strade con i mezzi comunali, mezzo milione di euro nel sacco. Dopo l'assalto all'oro catena di Bassano, cresce la preoccupazione tra gli imprenditori del settore. Incidente nell'ora di punta, schianto fra due auto, viabilità paralizzata e Bassano spaccato in due. ULS 7, tagli i compensi orari delle guardie mediche e sanità in subbuglio nell'Alto Vicentino. Per due notti di fila i lupi entrano nell'allevamento di asini, predato una femmina uccise le oche. Torna all'appuntamento in Piazza Libertà con la 86esima mostra concorso a sparago bianco di Bassano D.O.P. Attività abusiva in un deposito e una sfilza di precedenti, arriva l'avviso orale del questore. È caduto da 6 metri di altezza un operaio di Pionca di Vigonza in coma farmacologico. Operazione dei carabinieri di Cittadella per scoprire locali irregolari, due esercizi multati. Buonasera a tutti voi telespettatori, benvenuti a questa nuova edizione di Bassano TG. Apriamo subito il nostro telegiornale con la cronaca. È stata assaltata nella notte l'azienda Orafa Oro Catena in zona Cabaroncello a Bassano. Il bottino potrebbe agirarsi intorno al mezzo milione di euro. Tutti i dettagli. Un'azione pianificata nei minimi dettagli. Un vero e proprio colpo da film, quello messo a segno nella notte all'azienda Orafa Oro Catena di Via Magio a Bassano. Un assalto studiato e preparato attentamente. La banda ha rubato cinque mezzi, ha bloccato le tre strade di accesso al laboratorio, poi ha sfondato Cancello e Portone puntando direttamente alla cassaforte che ha fatto esplodere con delle bombole di acetilene. Questo è il punto di Via Magio dove i malviventi hanno fatto il primo blocco stradale utilizzando i mezzi rubati prima dal magazzino comunale e questa panda che è stata rubata da un'officina. L'azione è durata pochi minuti. I malviventi, tre, forse quattro, si sono mossi con grande sicurezza, immortalati dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza. La dei esperti, velocissimi, sapevano perfettamente come muoversi dentro l'azienda. Nel giro di sei, sette minuti sono riusciti a agire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine avvertite e anche delle varie vigilanze private, però ovviamente erano già scappati. Traumatico perché ovviamente lo pensi sempre lavorando nel settore orafo possa succedere, però si pensa sempre di prendere tutte le precauzioni possibili, però quando succede ti accorgi che in qualche caso la malavita è sempre un po' più avanti di noi. Dalla cassaforte i ladri sono riusciti a rubare oro e metalli preziosi. Con il bottino, il cui valore è in corso di quantificazione, ma potrebbe aggirarsi intorno al mezzo milione di euro, sono fuggiti a piedi verso nord scavalcando questa recinzione. L'hanno rotto loro, non so se per entrare o per uscire c'era la vasca qua delle batterie, erano tutte spostate e io ho sistemato adesso. Sul colpo l'azienda Oro Catena sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Bassano e del nucleo investigativo di Vicenza. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi della stessa banda che ha assaltato a fine gennaio la ditta Livior di Romano Dezzelino. Abbiamo sentito nel servizio che la banda che ha assaltato l'azienda Oro Catena potrebbe essere quindi la stessa che ha agito a Livior a Romano Dezzelino due mesi fa. Cresce quindi la preoccupazione tra gli imprenditori del settore. Prima la Livior con un tentativo di furto a giugno dell'anno scorso e poi il colpo messo a segno a gennaio. Anche in quel caso strade bloccate con macchine e furgoni e malviventi esperti capaci di agire in pochissimi minuti e di sparire con il bottino prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La notte scorsa con modalità del tutto analoghe l'assalto all'azienda Oro Catena di Bassano. Sicuramente c'è preoccupazione perché il modus operandi è lo stesso e quindi evidentemente è una banda che opera nel territorio. Questo ci riporta agli anni 2000 o anche prima quando c'era la banda di Felicetto Maniero che operava rapine in un susseguirsi continuo alle aziende ORAFE. Andrea Fabiana, amministratore di Oro Catena, si fa portavoce delle preoccupazioni delle aziende del territorio in veste anche del suo incarico di vicepresidente di Confapi Vicenza. Come imprenditori di aziende ORAFE e anche di altri settori speriamo che le forze dell'ordine riescano ad acciuffare questi malviventi. Siete preoccupati? Siamo preoccupati, sì, certo, perché le difficoltà in questo periodo sono molte e quindi dobbiamo già affrontare queste come imprenditori, affrontare il mercato, affrontare tutto quello che c'è stato anche post-Covid. e quindi anche dover subire questi attacchi e queste problematiche è un surplus non indifferente. Traffico paralizzato all'ora di punta tra via Fontanelle e via Le Scalabrini per un incidente. Paura, danni e disagi all'ora di punta in via Fontanelle dove si è verificato un incidente stradale. Poco dopo le 13 due veicoli sono andati a sbattere all'altezza di una semicurva bloccando letteralmente l'accesso a Bassano da nord per quasi un'ora. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio da parte degli agenti della polizia locale subito intervenuti sul posto per la gestione della viabilità e per i rilievi di rito. Di certo c'è solo che i due mezzi, una Opel e un SUV Mercedes si sono scontrati frontalmente in una strettoia fra le case. Ad avere la peggio è stata la Opel che ha riportato danni molto ingenti. Entrambi i conducenti sono scesi con le loro gambe dai veicoli anche se sul luogo dello schianto è arrivata un'ambulanza del suo che ha prestato loro le prime cure. Nessuno degli occupanti dei mezzi coinvolti è rimasto ferito in modo grave mentre le ripercussioni più pesanti le ha subite il traffico dell'ora di punta. Corriere, auto e camion sono stati deviati sulla viabilità minore con tutte le conseguenze del caso per la percorribilità delle strade e dei quartieri circostanti. Le operazioni di pulizia della strada sono terminate nel primo pomeriggio. Compensi orari tagliati per le guardie mediche nell'Alto Vicentino. La sanità è in subbuglio. Compensi tagliati per i dottori che lavorano in guardia medica che si trovano lo stipendio orario quasi dimezzato. Accade in alcune aree dell'Ulss7 dove i medici della continuità assistenziale hanno ricevuto una mail dalla direzione dell'azienda sanitaria, Pedemontana, che segnala la conferma del compenso di 40 euro l'ora solamente le ore eccedenti. Ovvero, su 9 turni di guardia medica, 8 vengono pagati i 23 euro e l'ultimo gli effettivi 40 decisi dalla normativa regionale di riferimento. Gli specializzanti di alcune aree di competenza dell'Ulss diretta da Carlo Bramezza fanno però notare che la stragrande maggioranza dei medici non fanno mai tutti quei turni perché lavorano in ospedale per la maggior parte del tempo. Pare che questa scelta stia portando molti giovani medici a ponderare l'abbandono dell'incarico e anche la politica regionale si sta muovendo per chiedere conto di queste decisioni organizzative. Secondo alcuni dati, l'Alto Vicentino, territorio che sarebbe particolarmente colpito dal nuovo assetto, avrebbe avuto un'emoragia di oltre 250 medici in gran parte con dimissioni non dovute a pensionamenti. Numeri difficilmente sostenibili o sostituibili. La faccenda sbarca infatti in consiglio regionale perché, da quanto scritto dalla direzione ai medici, la novità sarebbe riconducibile alla negazione da parte della regione dell'istanza di riconoscimento di area disagiata proposta dall'Ulss. E parliamo di politica bassanese con Bassano per tutti che scende in pista. Bassano andrà al voto fra un anno e già la politica sta scaldando i motori in vista di una data così importante. Movimenti più o meno sotterranei sono in corso da un pezzo e c'è stato anche qualche terremoto che per i soliti ben informati e nonostante le immediate smentite potrebbe rappresentare proprio il via di una lunghissima campagna elettorale. Nel frattempo Bassano per tutti scioglie le riserve e mette sul piatto della discussione due temi molto cari alla città. In primis quello delle case di riposo con il CDA dell'ISAC assediato dalle richieste di dimissioni. Siamo convinti che quello dell'ISAC sia un problema della città e anche dei cittadini che magari non hanno parenti in ospiti dell'ente assolutamente. Una situazione che non giova certo al servizio anche se secondo la civica i problemi sono altri. Adesso sappiamo con certezza che ci sono meno di 200 dipendenti in tutto l'ente e chiaramente non sono sufficienti a garantire una cura attenta degli ospiti. L'altro grande filone di quest'ultimo anno è quello di San Lazzaro con il braccio di ferro sull'ultimo lembo di campagna bassanese. Per noi l'insegnamento produttivo che si vuole realizzare a San Lazzaro meglio logistico che si vuole realizzare a San Lazzaro è un intervento che non deve essere fatto. Noi non abbiamo e non tenteniamo su questo. Siamo convinti della nostra posizione non perché abbiamo una posizione negativa sugli interventi produttivi anzi ma perché riteniamo che questo non sia l'intervento per Bassano. Retinò suggerisce inoltre che il passaggio del vice sindaco Andrea Zonte in Fratelli d'Italia potrebbe avere anche un significato sul filone San Lazzaro. Il partito che è l'unico che si è schierato apertamente sempre a favore dell'intervento di San Lazzaro. Bassano per tutti conferma comunque la propria contrarietà al progetto sia come percorso SUAP sia come piano specifico. Siamo contrari a quell'intervento perché non è quello il modo di immaginare un futuro sostenibile del territorio. E parliamo invece di elezioni amministrative di maggio. A Marossica la campagna entra nel vivo con la sfida A2 tra l'uscente Matteo Mozzo e Giorgio Santini. E da oggi la presentazione della Civica Marossica per tutti che sostiene la candidatura di Santini. Una città per tutti, una città più sostenibile e giusta, una città più sana e sicura, una città che studia, più viva e forte. Sono i punti principali del programma della lista Civica Marossica per tutti Santini sindaco. 16 candidati, 10 uomini e 6 donne a sostegno della candidatura a sindaco di Giorgio Santini. Noi siamo molto orgogliosi di tante cose di questa lista. Per esempio il fatto che ci sono uomini e ci sono donne. C'è un altissimo tasso di istruzione, sia tra laurea e diploma. C'è la presenza di tutti i territori, in particolare c'è un candidato per ogni frazione. Un gruppo che punta a favorire la partecipazione attiva dei cittadini con l'istituzione, ad esempio, del Consiglio delle Frazioni, ma che guarda anche allo sviluppo sostenibile e alla difesa del patrimonio pubblico a partire dall'area del vecchio ospedale. Abbiamo corretto l'errore che riguardava la possibile vendita dell'ospedale che per pochissimo tempo siamo riusciti ad evitare. Abbiamo evitato la vendita della piscina. Ripartiamo da fare adesso in positivo queste cose. Per esempio noi diciamo che nell'area ex ospedale bisogna fare delle opere che aiutino le persone fragili, pensiamo a degli alloggi, nelle situazioni di difficoltà sia per anziani sia anche per categorie giovani. E ancora Marostica per tutti punta i riflettori sul tema della sicurezza e della viabilità. Il rischio di incidenti, per esempio, nelle rotatorie nella zona tra Marostica, Pianezza e Colceresa è un rischio quotidiano. Quello è un incrocio che va messo in sicurezza. Il comune purtroppo precedente ha distorto risorse e noi vogliamo che quell'opera venga realizzata nei tempi più brevi possibili. E ancora una volta l'allevamento di asini di Ernesto Rigoni è stato colpito dai lupi. Due razzie di fila, un'altra asina predata e il pollame ucciso. L'allevatore non ce la fa più. Non c'è pace in alto piano dove i lupi sono tornati in azione questa notte colpendo nuovamente l'allevamento di asini di Ernesto Rigoni a due passi dal centro di Asiago. Un branco aveva aggredito l'altra notte gli animali a pochi metri dall'abitazione mangiando un asinello e terrorizzando i cani da guardiania dell'allevatore. E stanotte sono tornati. Questa mattina mi sono alzato verso le otto, ho trovato un'altra asina sguaranata vicino a quella di ieri a sette e otto metri, non hanno neanche toccato la carcassa di quella di ieri. Hanno mangiato, ucciso questa asina che era incinta prossima al parto. La carcassa dell'asino predato l'altra notte non è stata nemmeno toccata. Poi i lupi si sono dedicati con calma al pollame del signor Rigoni. Inoltre hanno mangiato degli occhi, una tacchina, vuol dire che era già verso le sette di mattina, sei e mezzo. Dopo la razzia i lupi sono tornati nei boschi e il branco è stato avvistato nei pressi di Gallio. E dopo li hanno visti, difatti mi hanno detto che qua sopra Gallio, sopra è Gasta, quasi nella zona residenziale, li hanno visti passare verso le sette, sette a un quarto. Erano quattro o cinque lupi in mezzo alla strada, erano panciuti, pieni di mangiare, sicuramente erano quelli che sono venuti a casa mia. Ernesto Rigoni non ce la fa più e già da un pezzo sta pensando di chiudere l'allevamento, già colpito molte volte dai selvatici. Dopo la predazione dell'altra notte si era sfogato dicendo che se non fosse cambiato nulla avrebbe portato il suo greggio in municipio come forma di protesta. Ora la resa è ancora più vicina. Sono così deluso che guardi, non ho parole, non ne dico niente e basta. Nessuno si fa sentire, nessuno si fa vedere. E il vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco ribadisce che la situazione legata alla presenza dei grandi carnivori ormai è fuori controllo. Bisogna ovviamente intervenire in quanto si sta mettendo a repentaglio non solamente la sicurezza dei cittadini e delle persone che abitano in montagna ma in parte anche l'economia della montagna. Perché se pensiamo al territorio veneto e al grande carnivoro che è il lupo, che non ha antagonisti in natura, ai danni che sta causando proprio l'economia di montagna, ovviamente questo è un problema che va risolto e ovviamente non con gli estremismi. Perché ovviamente noi oggi il problema che dobbiamo risolvere è trovare veramente un equilibrio tra la presenza dell'uomo in montagna e la presenza di questi grandi carnivori. Però ovviamente quando la situazione sfugge di mano, come abbiamo visto di recente, non è che possiamo nascondere la testa sotto la sabbia. Bisogna avere il coraggio di affrontare la problematica in maniera seria, con dati alla mano e trovando anche le giuste soluzioni. Attività abusiva in un deposito è una sfilza di precedenti. Per un commerciante di Colceresa arriva l'avviso orale del questore. I finanzieri del comando provinciale di Vicenza hanno richiesto al questore l'emissione di un provvedimento di avviso orale nei confronti del titolare di una ditta individuale, gestore di un noto emporio di vari prodotti a Colceresa. Il questore Paolo Sartori, dopo aver preso atto dei numerosi precedenti penali, fra cui condanne per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti, omicidio colposo, violazioni penali in materia ambientale, gestione di rifiuti non autorizzata, violazioni contro la salute pubblica nel settore alimentare, ha emesso un avviso orale che è stato notificato al diretto interessato. La misura è arrivata dopo che la finanza bassanese aveva scovato una struttura di vendita ricavata abusivamente in un deposito. Nonostante le carenze rilevate e le prescrizioni di rito, il titolare aveva continuato la sua attività commerciale mettendo a rischio l'incolumità dei clienti. Poi era arrivata la chiusura e la successiva messa a norma. E torna l'appuntamento in Piazza Libertà con una delle più attese manifestazioni gastronomiche del territorio. Parliamo dell'86esimo mostra concorso a Sparago Bianco di Bassano DOP. Domenica 23 aprile ci svolgerà l'86esima edizione della mostra concorso della Sparago Bianco di Bassano DOP. L'imperatore di Bassano torna in mostra. Saranno una trentina i produttori a sfidarsi a colpi di ruote e nastri di stroppa in una delle mostre di ortaggi più antiche in tutta Italia e tra le più attese del territorio. Ci sarà la presentazione verso le 9 del mattino da parte dei produttori delle ruote che andranno in concorso e verso le 11 e mezza ci sarà la premiazione. Anche quest'anno quindi pronta la corona per il miglior asparago bianco di Bassano DOP. Devono essere superiori a 2,5 kg di peso, devono avere gli apici serrati e il prodotto deve essere eccesso. Sarà difficile giudicare? Ma è sempre difficile giudicare perché quando ci si trova di fronte a 30 produttori con 30 mazzi o ruote di asparagi con queste qualità effettivamente non è semplice. Sarà arduo il compito della giuria ma è come quest'anno infatti complice a un clima favorevole. L'asparago promette una qualità altissima, un prodotto con meno fibra, più aromatico e gustoso. Quest'anno dicono sia buonissimo l'asparago. Quest'anno da quello che mi dice il presidente ma che mi dicono anche i ristoratori, nonostante il periodo che era un po' in ritardo, il nostro imperatore è veramente di ottima qualità. E grande festa a Casoni di Mussolente per i 60 anni di matrimonio per Guerrino e Francisca. E gli auguri anche da parte del sindaco Cristiano Montagnera. Grande festa a Casoni di Mussolente per i 60 anni di matrimonio di Guerrino e Francisca Busnardo. Un amore nato in Svizzera più di mezzo secolo fa. Come sono stati questi 60 anni di matrimonio? Benissimo, molto bello perché lui è stato sempre molto bravo. Anche lei però? Sì, sì anche a me. Tutti e due. Un amore lungo 60 anni. Tanti gli auguri a Guerrino e Francisca. Figli, nipoti, gli alpini del gruppo Casoni ma anche il sindaco di Mussolente. È una testimonianza vera, di amore vero in questi anni dove magari non è proprio così. L'esempio di Francisca e di Guerrino è un esempio per tutta quanta la comunità. Non solo quelle di Casoni, non solo quelle di Mussolente ma per tutto quanto il territorio. Per cui mi viene da dire altri 60 anni insieme. Ed ora vediamo altre brevi notizie. Incendio nella notte a Schiavon. Le fiamme hanno distrutto parte del tetto di un condominio in via Primo Maggio. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa che hanno spento le fiamme in due ore. Il 26 aprile è istituito a Cassola il senso unico di circolazione tra via Zanella e via Carducci. Viabilità modificata anche nel segmento cassolese di Viale Venezia per un intervento sulla rete fognaria. Salvo mal tempo i lavori dovrebbero concludersi nel primo pomeriggio. A Bassano del Grappa il 21 e 22 aprile è viabilità modificata a causa di una gara ciclistica. Nelle vie e portici lunghi, porto di Brenta e Bastion sarà istituito il divieto di circolazione veicolare nei seguenti orari. Venerdì dalle 14 alle 20 e sabato dalle 6 alle 9. È caduto da 6 metri di altezza ed ora un operaio di Pionca di Vigonza è in coma farmacologico. Sono molto gravi le condizioni di un 27enne di Pionca di Vigonza, vittima di un incidente sul lavoro. Il giovane, tecnico di un'azienda di manutenzioni di caldaie e climatizzatori, è caduto da un ponteggio e ha sbattuto con violenza la testa a terra. Secondo le prime ricostruzioni stava installando un condizionatore quando improvvisamente ha perso l'equilibrio ed è caduto nel vuoto da un'altezza di circa 6 metri. Immediatamente il soccorso è stato trasportato all'ospedale di Padova, operato alla testa e posto in coma farmacologico. Le sue condizioni sono molto gravi. Operazione dei carabinieri di Cittadella per scoprire locali irregolari e due esercizi sono stati multati. Controlli dei carabinieri di Cittadella in alcuni esercizi pubblici nell'ambito di un'attività di monitoraggio della salute e del contrasto del lavoro nero. I carabinieri si sono concentrati nelle zone di Cittadella e Tombolo insieme a Enassa. Hanno rilevato due irregolarità, la prima in una tabaccheria di Tombolo dove il proprietario è stato multato per alcune mancanze nei documenti di valutazione rischi. La seconda in un'osteria di Cittadella perché mancavano gli avvisi di divieto di somministrazione degli alcolici ai minori. Entrambi gli esercizi pubblici sono stati sospesi e dovranno pagare sanzioni per un totale di 23 mila euro. Questa sera ospiti del nostro direttore Luigi Baciaglia focus saranno Alessandro Berton, Fabio Crea, Alberto Ferri, Barbara Guidolin, Giuliano Guidotto, Vivian Moro, Alessio Morosina, Alessandro Trentin. Appuntamento quindi a partire dalle 21.15. In chiusura di telegiornale ricordo come sempre le previsioni del tempo di domani. Grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Buona serata.